Ogni quattro anni avviene il ripristino degli organi direttivi del CSI, il Centro Sportivo Italiano. Ed anche a Cava dei Tirreni si riunirà l'assemblea elettiva del Comitato Territoriale Cavese. Le elezioni ci saranno sabato alle ore 16 presso la Sala Convegni di Quarta Rete. Di questo e del 110 anniversario del Centro Sportivo Italiano ne abbiamo parlato con Pasquale Scarlino, attuale presidente regionale del CSI. Noi a Cava faremo l'assemblea elettiva per quanto riguarda il Comitato Territoriale di Cava dei Tirreni. Anzi lo faremo proprio all'interno della Sala Convegni di Quarta Rete a cui noi veramente diciamo grazie. Diciamo grazie per l'ospitalità ma soprattutto anche per il modo con cui sta seguendo e seguirà i nostri lavori. C'è questo momento assembleare ogni quattro anni, si rinnoveranno i quadri direttivi del Centro Sportivo Italiano e quindi inizieremo una nuova attività e quindi aspettiamo tutte le nostre società con inizio alle ore 16 sabato prossimo. La rivedremo di nuovo come presidente regionale? No, quello no. No, perché così come in tutti gli organismi ogni due mandati, ho finito i miei due mandati, sarò all'interno della presidenza regionale, questa è fuori ogni discussione, ma per statuto io non mi posso ricandidare, però è come se ci fossi perché la nostra è una grande famiglia. Questa settimana ricorre anche il 110 anniversario del Centro Sportivo Italiano e verrà celebrato anche con la messa sul mercato di un Franco Bollo che celebra i 110 anni. Sì, senz'altro ci sarà questa bella iniziativa che riporteremo sabato proprio in assemblea, proprio questo venerdì ci sarà questo annullo speciale a Roma con la presentazione del Franco Bollo con questi nostri 110 anni di attività. È un ulteriore riconoscimento che il Centro Sportivo Italiano a livello nazionale ha avuto e quindi naturalmente a cascata sia a livello regionale che a livello territoriale.